Che si tratta? Che si tratta? Che si tratta? Non dire no, no Non dire Non so che non è un altro Ma che ci posso fare Se sono un disperato Che ti voglio amare Che ti voglio amare Che ti voglio amare Che ti voglio amare Stano, adesso, sì Mi basta il tempo di morire Tra le tue braccia ancora Domani puoi dimenticare Domani, adesso, adesso dimmi di sì Non dire no Non dire no Non dire no Non dire no Non so che non è un disperato Ma che ci posso fare Se sono un disperato Che ti voglio amare Perché 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 il comune ci hanno mai chiesto di finire un'ora fa appunto il comune ci hanno mai chiesto di finire un'ora fa il comune ci hanno mai chiesto di finire un'ora fa il comune ci hanno mai chiesto di finire un'ora fa